Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un saluto agli amici di Dominio Bianconero, Juventus Women, dunque la Juventus espugna per la seconda volta in due anni la Dacia Arena di Udine e batte il Tavagnacco 2-0. Ancora non siamo riusciti a giocare sul campo del Tavagnacco, penso che in Coppa Italia ci giocherà là, però intanto. Due partite su due col Tavagnacco alla Dacia Arena. E le due partite secondo me che mettono la fotografia di quanto la Juve sia migliorata rispetto all'anno scorso a livello di qualità e lo si vede, l'anno scorso a Tavagnacco la Juve fece una partita secondo me non bella, sbagliò tantissimo a livello tecnico Tavagnacco passò addirittura in vantaggio, poi arrivò il gol di Franzi che ci fece vincere la partita prima il pareggio di Bonansia, poi il gol di Franzi e portammo a casa la vittoria. Oggi due gol di Girelli nel primo tempo hanno dato la via alla vittoria che poi è arrivata comoda, addirittura c'è stata, secondo me, tante occasioni sprecate. Oggi l'unica critica che posso provare a fare alle ragazze è un po' di poca precisione sotto porta, però oggettivamente insomma 2-0 lì alla Dacia Arena senza particolari problemi, credo che sia un risultato molto molto importante. Insomma la Juve sta crescendo anche di consapevolezza che credo che sia una cosa molto importante, soprattutto visto, ripeto, la concorrenza che c'è quest'anno. La Fiorentina l'anno scorso aveva cannato molto il campionato, perse tanti punti, il Brescia fece un campionato straordinario, tolto il Brescia e la Fiorentina, le altre erano veramente un gradino sotto. Quest'anno c'è da divertirsi perché oltre al Milan e Fiorentina che sono le competitors, per il torneo c'è la Roma, c'è il Sassuolo, c'è l'Atalanta che ha fermato la Juve a Vinovo e il Milan a Varese. Insomma sono tutte squadre che ti possono, il Tavagnaco che è comunque sempre insidioso, la Florenzia che gioca un ottimo calcio. Insomma è piena di squadre che ti possono fare lo scherzo da un momento all'altro. La Juve oggi è stata brava, ha fatto una partita perfetta, mi dispiace solo per l'infortunio di Glionna che spero che non sia nulla di grave, perché comunque è una ragazza eccezionale, soprattutto per la voglia e l'impegno che ci mette sempre, veramente forse una di quelle che preferisco, soprattutto a livello giovanile una delle più... con le più alte aspettative, insomma. Migliore in campo ovviamente è Cristana Girelli che pian piano sta perdendo anche lei, la sicurezza che aveva al Brescia la sta portando anche alla Juve e se Girelli, scusate il gioco di parole, se gira Girelli non ce n'è per nessuno, perché è veramente una giocatrice eccezionale che ti fa le giocate che non si aspetta nessuno. Credo che lei, Cernoia, siano i due perni del gioco della Juve. Detto questo, ovviamente poi la Juve è forte in tutti i reparti, oggi vedevo la formazione, non c'era neanche Boatini, eppure la formazione era ultra competitiva e quindi va bene così. Dunque Juve che balza in testa il campionato da sola ed è prima sia nel maschile che nel femminile, un po' come l'anno scorso, ovviamente adesso c'è da tenere perché la concorrenza, come ho detto mille volte, quest'anno è molto, molto agguerrita. Juventus batte Tavagnacco a Tavagnacco, alla Dacia Arena, anzi a Udine, alla Dacia Arena 2-0. Chiedo dunque al mio video, al prossimo video, ciao ragazzi!